Grazie 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 Molta aggressione. Molta aggressione per Federico Barbarino. 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 Grazie. 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 a nuovo 7 metri a favore della formazione giusta quarta volta il quarto tiro dai 7 metri a favore della formazione quotidiana in queste prime quasi 17 minuti di posizione basta, bravo, bravo Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.